Sul piano Aro un primo pronunciamento da parte del TAR è arrivato. La richiesta di sospensiva presentata dal Comitato per la trasparenza dei costi del servizio è stata respinta. Per l'amministrazione comunale di Sciacca si tratta di un passaggio comunque fondamentale in relazione a quello che potrà essere il giudizio di merito sul ricorso presentato dal Comitato Saccense. Il TAR ha rigettato la richiesta di sospensiva sulla procedura Aro, quindi sulla delibera di Consiglio Comunale su tutti gli atti conseguenti, ritenendo non sussistente il Fumus Bon Iuris, anzi facendo una valutazione sugli interessi che erano in gioco tutta favorevole all'interesse pubblico di inizio del servizio e nelle pieghe dell'ordinanza facendo anche una valutazione di più ampio respiro circa la possibile accoglibilità del ricorso che allo stato degli atti non appare assolutamente verosimile e probabile. L'amministrazione intanto sulla base della decisione assunta dal Tribunale Amministrativo Regionale ha ripreso l'iter per l'affidamento del servizio previsto dal Pianuaro alla ditta SEA che si è giudicata nei mesi scorsi l'appalto espletato dall'Urega. Noi abbiamo in questo momento un provvedimento esecutivo, anzi abbiamo un provvedimento di un giudice che obbliga la pubblica amministrazione all'esecutività, quindi credo davvero che possa riprendere. Intanto i lavoratori di Sogeira hanno nuovamente proclamato lo stato di agitazione e domani mattina si riuniranno nei locali della società d'ambito per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. Una situazione che non può continuare, commenta il Sindaco Di Paola che poi attacca il Comitato per la trasparenza dei costi del servizio. Queste situazioni ci devono portare sempre di più a fare in fretta per cambiare sistema. Questi scioperi non sono motivati dall'atteggiamento del Comune che è sempre stato regolare nel pagamento dei contributi alla Sogeira. Il problema è tutto il sistema che è imploso perché ci sono Comuni che non pagano, ci sono Comuni che pagano in ritardo. Alla fine siccome però il Comune è più grosso e il Comune di Sciacca, ecco che chi ne subisce le conseguenze maggiori siamo noi. Quindi a maggior ragione noi dobbiamo andare avanti per eseguire e attuare la scelta che a suo tempo abbiamo fatto. E ne vorrei approfittare per invitare le associazioni perché poi alla fine questo ricorso è un ricorso che è firmato da un comitato che vorrebbe fare, ritengo, interessi pubblici. In realtà però io vorrei ricordare che non si possono inventare cavilli giuridici per fare gli interessi pubblici. Gli interessi pubblici bisogna farli correttamente e quindi questo ricorso ha fatto perdere del tempo al Comune di Sciacca nell'attuazione del servizio. Ha provocato un dispendio di risorse perché io ricordo per esempio che noi nell'appalto prevedevamo anche la pulizia del carnevale che invece abbiamo dovuto appaltare all'esterno, abbiamo dovuto incaricare un legale, stiamo ritardando nei processi di raccolta differenziata. Cioè tutta una serie di cose che evidentemente hanno sortito degli effetti pregiudizievoli per il Comune.